Il Mobile World Congress di Barcellona è stato offerto da Nubia Mobile e Massman.net Cari lettori di PianetaSmart.it, amici delle recensioni Guerzo 86, ecco la prima particolarità dal boot di LG, LG Stylus 3. Vedete qui nella mia mano ho un pennino, un pennino che ci permetterà di interagire, come per esempio avveniva anche sul Note 7, prima che Samsung, ovviamente, sappiamo tutta la nostra storiella. Si può tranquillamente interagire con un'interfaccia proprietaria, ci permette di andare a prendere delle quick memo al volo, oppure di fare degli screenshot, di salvare qualche testo. Il pennino è molto morbido e devo dire anche molto rapida la sua interfaccia, vedete si può andare tranquillamente a prendere una nota al volo. È un po' plasticoso, ecco, quando proprio la punta della penna tocca il nostro display, forse anche il display stesso non è leggermente scivoloso, questo ci permette comunque di utilizzarlo, vedete, in maniera abbastanza precisa se dobbiamo prendere delle note al volo. Ovviamente non stiamo parlando di un top di gamma, non è un'alta fascia, è un dispositivo che ha un display da 5.7 pollici con una risoluzione HD, abbiamo una fotocamera posteriore, adesso mi gira il dispositivo che è da 13 megapixel, abbiamo il sensore biometrico per sbloccare il nostro smartphone con l'impronta digitale, abbiamo il flash, abbiamo una back cover che è rimovibile, eccolo qua, abbiamo l'apertura, qui abbiamo il nostro speaker, la batteria è da 3200 mAh, la RAM è da 3 GB, fa girare il dispositivo in maniera abbastanza fluida, l'abbiamo provato prima, vediamo se c'è il doppio tap, come sempre sì, vedete, il tutto si muove molto molto bene, la user interface è quella di LG, ovviamente non abbiamo Nougat, ma abbiamo la versione 6.0 Marshmallow, insomma l'interfaccia è quella classica che ormai LG ci ha insegnato a conoscere nei suoi smartphone. L'interfaccia della fotocamera, anche qua, non cambia assolutamente niente, rimane tutto invariato con tutte le nostre impostazioni nella parte destra e la possibilità di switchare con la fotocamera frontale che è da 8 megapixel, le nostre foto selfie, insomma un prodottino davvero molto interessante, visto anche il sensore biometrico nella parte posteriore, una scocca con un simile alluminio rigato, lo vedete, eccolo qua, nella sua back cover e la possibilità di andare a riporre il nostro pennino in questa zona qua e quindi avere un dispositivo sempre più rivolto a un'utenza business. Per ora ragazzi è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video.